buongiorno cuori buongiornoissimo grazie grazie di cuore per il riscontro che mi avete dato e così ho deciso di mettere anche questo video e che inizierà subito dopo grazie cuori ciao questo è tutto il lavoro non so quel che si vedrà che devo fare oggi e cui cuori c'è una grande grande novità che vedrete in un futuro se riuscirò a concludere perché ci sto già lavorando da 10 giorni e qua invece ci sono delle cose che devo rifinire e che vi farò vedere probabilmente nel primo video creazioni che riuscirò a girare con queste piccole cose che sto cercando di montare ciao cuori guardate che il video inizia adesso buongiorno cuori buongiornissimo eccoci qui con un altro scopriamo ho fatto delle nuove prove e questo è uno stampo che mi sono creata io e che vedrete e son troppo curiosa non riesco ad aspettare il pomeriggio quando ci sarà più sole ma son troppo troppo curiosa allora partiamo prima da questi ma mi sa che non è cambiato molto rispetto a quegli altri che avete visto nel senso che non so se come sono venuti però vabbè proviamo eccoli qua ma 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 dai non mi dispiacciono non mi dispiacciono però comunque il bianco lì e questa volta vi assicuro che ne ho messo poco ma veramente poco eppure ok 1 adesso vediamo anche questo questo va un po meglio solo qui e qua il bianco ha proprio messo lo stretto necessario perché altrimenti macchia comunque sono contentissima adesso sempre paura di avvicinare troppo che venga suocato ma è venuto bene sono contenta se sono sotto controlliamo dopo sono tutti da mettere a posto e speriamo questi qua non sono degli stampi perfetti guardate che roba però guardate questo mi piace molto non è che lo sto avvicinando troppo si vede vedete sono contenta sono contenta sono contenta allora questi eccoli qua adesso vediamo quest'altro qui ho cercato di comprarli a coppie perché ho detto non si sa mai che mi servono a coppie ecco solo fallo uscire no metterci un secolo eccolo qua particolare guardate particolare e con le sfumature mi piace tantissimo mi piace tantissimo eccoli qua che dite ne facciamo un paio di orecchini si dai farò un paio di orecchini adesso vediamo questo ok ok non mi dispiace non mi dispiace riuscite a vedere allora vediamo perché li ho fatti a coppie tranne uno che non avevo abbastanza resina per fare questo qua non avevo abbastanza resina per fare la sua coppia beh dai questa volta mi piacciono mi piacciono di più ma continuerò a provare continuerò a provare e poi devo dire che questi nuovi colori di le bimbi mi piace tantissimo soprattutto questo viola viola blu mi piace tanto allora poi ho fatto questi allora vediamo un po questi li ho fatti un po ragionati speriamo che siano venuti decentemente le ho fatti un po particolari beh vediamo vediamo quello che sentite la stampante perché è tutto qui che curioso che curioso che curioso che curioso oh 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 sì sono soddisfattissima voi che ne dite guardate le sommature guardate e poi ho usato la foglia oro qui un arancione un po' di dorato il rosso mi piace tantissimo mi piace tantissimo e anche l'oro ditemi cosa ne pensate adesso vediamo questo che più o meno l'ho fatto con la stessa tecnica così vedrete anche questo mio nuovo stampo giusto per rimanere in tema di cuore di amore guardate 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 no sono contentissima sono contentissima e poi ho fatto uno stampo stupendo a voi piace? a me sì tantissimo e mi piace come è venuto con tutte le sfumature il dorato che si sfuma la foglia oro sì 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 decisamente sono molto molto contenta bene cuori vi saluto e al prossimo video grazie di seguirmi ciao 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 ciao